Il sistema è costituito dall'avanziale, dottato sul visore e stilite le camere all'alta risoluzione, inviato e riconosciuto e riesce automaticamente da anche dei veicoli, i documenti di utente. Quindi quando il signor Fevaro e i suoi collaboratori, che sono persone che io ritengo portate all'innovazione, ci hanno presentato, raccomando, questo sistema, noi si è dato subito il nostro piccolo contributo anche per valorizzare in parte la nostra bellissima città, per fare in modo di fare promozioni, oltre che della città, ma di un sistema da poter utilizzare nel tempo. Sicuramente sarà un sistema che andrà sperimentato e può essere migliorato in tutte le sue fasi. Quindi inizialmente non vedrete gli agenti tutti colori occhiali, ma verrà sperimentato in una prima fase da solamente da tre operatori.